Durante la vita in questa terra siamo immersi da tanti impegni, pensieri, emozioni e sensazioni del corpo di vario genere. Quando si è bambini, nella stragrande maggioranza sul mondo occidentale, si acquisisce un'idea sull'esistenza di Dio. I genitori come le istituzioni influenzano nei pensieri del bambino che fa l'esperimento religioso sulla preghiera, ma con il passare del tempo gli impegni del ragazzo aumentano e quello che era lo studio della religione a scuola tende ad essere messo da parte perché lo studio a scuola è molto complesso. Ci sono tante aspettative per arrivare alla fine dell'anno con successo. Alcuni continuano con le tradizioni di famiglia, altri dimenticano, addirittura iniziano a crearsi una propria visione su Dio. Gli adolescenti si pongono tante domande a cui non ci sono risposte saurienti. Quindi si rimane in una specie di limbo esistenziale. Magari si vive da buon cristiano, ma la consapevolezza di Dio è molto annebbiata e sporadicamente in eventi religiosi come matrimoni, battesimi, eccetera, si è presenti, forse solo per dovere o formalità. Alle domande esistenziali, chi è Dio? Esiste veramente? Perché accadono tutte queste cose brutte nel mondo se c'è un Dio? Perché alcuni hanno più benefici degli altri ed esistono ingiustizie? È meglio pensare che non c'è un Dio dopo questa morte sulla Terra o sperare che c'è un al di là. Se c'è Dio, qual è il Dio delle tante religioni professate che appartiene alla mia personalità? Cercheremo di analizzare domande come queste per arrivare a una conclusione semplice che soprattutto porti pace nell'anima. Prima di tutto bisogna capire il concetto di felicità, amore e scopo della vita. Questa è una grande sfida. L'uomo tendenzialmente vuole gioire, vuole divertirsi, avere delle esperienze piacevoli e mantenere le distanze dalla sofferenza. Il nostro corpo inevitabilmente prova dolore se è soggetto a qualcosa che ferisce. Nel nostro corpo ci sono impulsi elettrici o sensazioni a volte che non possono esprimere, a volte che non possiamo esprimere o che procurano gioie o dolori. In mezzo a tutto questo ci sono malattie sia fisiche che mentali. Prima poi le persone si rendono conto di questo ed a volte hanno bisogno anche di tutta la vita per scoprirlo. La tendenza dell'uomo è di provare piacere un po' per evadere dai problemi, un po' perché crede di meritarlo, un po' perché è abituato. Così è solo curioso. Nella vita esistono tanti inganni sulla felicità, sul sentire piacere e dichiarare di essere felici per questo. Partiamo da un semplice concetto che noi tutti conosciamo, ovviamente. Il cibo. Quanto è buono una pizza? Una pizza condita come la preferiamo noi o un dolce che ci ha fatto sempre nostra madre? Il cibo è una fonte di piacere, oltre che una necessità per vivere. Partendo da questo concetto si capisce quanto esiste l'inganno sulla felicità. Perché? Infatti esiste l'ingordigia, la dipendenza da cibo, spazzatura che in americano si dice junk food, che rende felice il nostro palato ma che non è realmente necessario per il nostro corpo. Il cibo o una bevanda agiscono sul nostro cervello ed è terapeutico. Molti esagerano a nutrirsi male per allontarsi dallo stress fisico o emotivo. Ed ecco l'obesità o l'inizio di malattie organiche che possono portare alla morte precocemente. Ma non avevamo detto che il cibo è una fonte di implicità? Lo è. Deve solo essere gestito con saggezza. Altrimenti diventa una fonte di implicità. Così come il cibo, l'eccesso di tante fonti di piacere legittime, possono portare all'implicità o a piacere momentanei e devono essere gestite con saggezza. Ci sono fonti di piacere illegittime come l'uso di droghe, lo sfruttamento della prostituzione. Oggi esistono illegalità e immoralità diffuse come strade paci e scorciatoie, d'altronde come è sempre esistito. Quindi vogliamo essere felici ma dobbiamo imparare a non sbagliare su questa ricerca. io personalmente credo in Dio. Ma chi non ci crede o è gnostico, supponiamo che esista un Dio e che egli vuole che noi siamo felici. Cioè che proviamo sensazioni di allegrezza, amore e di serenità. Ma sembra proprio che la sofferenza non si possa debellare, ci dobbiamo convivere. Quando arriva si deve attuare subito un piano per sdrammatizzare e ritrovare la propria felicità. Sembra proprio un esercizio a cui Dio ci sottopone per il nostro progresso. Una vera e propria scuola della vita. Tra le altre cose sperare che esiste un al di là può fare star bene. Perché non si vuole pensare di annullarsi completamente quando si muore. Almeno io ho provato questa sensazione fin da quando ero bambino e che volevo sperare ad una continuità di vita dopo quella terrena. Alla domanda sulle religioni, ne parlerò in seguito perché per prima bisogna convincersi dell'esistenza di Dio. Oggi esistono delle spiegazioni esaurienti sulla prova scientifica di Dio contro la teoria d'Arguniana anche solo analizzando la logica della natura e del creato così combinata bene da esprimere bellezza e gioia. Ma ancora per molti questo non basta. Perché bisogna ancora definire chi è Dio, se è una persona, un'entità o solo rimane un mistero. A questo punto intanto bisogna necessariamente avere la consapevolezza dell'esistenza dell'idolatria moderna. Idolatria moderna. Immaginiamo un'idolatria come un mostro con tanti tentacoli. Ogni tentacolo è una diversa forma di idolatria. A quale Dio non tutti vogliamo appartenere? Uno, dopo quello che ho detto, potrebbe dire non di certo al mostro dell'idolatria moderna. Invece bisogna essere molto attenti perché ci si casca facilmente. Questo è il punto cruciale. definiamo idolatria. Adorazione degli idoli o eccessivo attaccamento o dedizione a qualcosa. Quindi di nuovo, eccessivo attaccamento o dedizione a qualcosa. Mi sembra di avere già usato la parola eccessivo, vi ricordate? Quando parlavo di cibo o altre fonti illegittime di piacere. Continuiamo con la definizione biblica. Non avere altri dii nel mio cospetto. Esodo 20, il 3. L'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli. 1 Samuele 15, 3. Tu hai adorato gli dei d'argento e d'oro. Daniele 5, 23. La concupiscenza e idolatria. Colsesi 13. cerchiamo di spiegarlo in un terzo modo, con parole più moderne. Non c'è bisogno di spiegare quando si parla di adorazione di idoli come statue, dell'argento, l'oro. In altri casi si ha un eccessivo attaccamento al denaro, alle ricchezze, alle ambizioni di carriera, ad uno sport, alle tradizioni culturali forvianti di un costoso matrimonio, a spese eccessive di viaggi, a fare cose sul punto di contrarre debiti che schiavizzano il cervello su questo sistema di consumismo a shopping compulsivo, sfrenato che dà sue fazioni. Al trattamento del corpo di una donna o di un uomo come un solo oggetto di desiderio sessuale, alle dipendenze dell'alcol e dalle droghe, alla dipendenza dalla pornografia, alla potentissima dipendenza dalla dopamina che scaturisce dall'attaccamento continuo sui schemi schemi di smartphone, pc, tv e console di videogiochi. L'uomo si concentra su troppe cose che allontanano Dio, come troppe attenzioni sulle filosofie che adorano personaggi famosi o influencer sulla moda e sul concetto sbagliato della realtà. Sono segnali che ci stiamo allontanando dalla operazione del Dio che vuole la nostra felicità. L'idolatria moderna è come un prestigiatore che nasconde il trucco che entra nel nostro sistema nervoso senza che noi ce ne accorgiamo. È una fonte di felicità illusoria. Infatti non credo che chi compri una supercar dopo aver raccolto i soldi per tutta la propria vita sia stato felice durante il corso della vita dopo aver tirato le somme. Alla fine penso che non sia quello lo scopo della vita. Difatti la concupiscenza che significa attaccamento più alle cose materiali che spirituali porta all'allontanamento della felicità, secondo Dio. Molti studiano all'impazzata, quasi da farsi ricoverare in ospedale per esaurimento nervoso. La società del capitalismo vuole far credere che il successo per la carriera si raggiunge così con la sofferenza sui libri. Per carità, con tutto il rispetto, io ho pure la laurea, non sto dicendo che non bisogna studiare. La società è competitiva e bisogna fare molti sforzi per sopravvivere. Infatti io direi che si tratta più di una sopravvivenza più che di un successo raggiunto per la carriera. Bisogna studiare con saggezza, capendo in quale direzione si vuole andare, perché la domanda è sempre quella. Alla fine, ci si sente felici? Per capire come essere veramente felici, bisogna credere che Dio esista e che ci dia delle regole di integrità per evitare inganni della società, del cosiddetto Dio denaro, della guerra, del potere, delle filosofie o idolatria moderna, come abbiamo già detto. La persona integra può ammalarsi di meno, è più serena, ama veramente la propria famiglia e sa come divertirsi, ha abbastanza energia, facendo anche sacrifici e lavorando duramente. Vive secondo i propri bisogni, ha tutto il necessario per vivere ed essere felice secondo Dio. Dio esiste, ci ama e vuole che noi siamo felici, perché siamo Sui figli, a Sua immagine, e possiamo ritornare un giorno nella Sua dimora. Egli ha un piano di salvezza per la nostra anima, contro il peccato che oggi potrebbe definirsi qualsiasi fonte di felicità ingannevole ed illegittima, che alla fine porta all'implicità. Come si arriva a questa conclusione? Come si arriva a credere che esiste questo tipo di divinità padre? bisogna sperare. Bisogna sperare dal di là. Bisogna pregare e rivolgersi a lui. Bisogna fare introspezione di sé e capire ciò che stiamo scegliendo nella nostra vita, ora, che porta alla vera felicità, o meno. Iniziamo con la preghiera sincera, avrete le vostre risposte e inizierete a stabilire una personale testimonianza. sull'esistenza di Dio. Io so che Dio esiste. Ha un corpo a nostra immagine e somiglianza. Ci ama. Ci insegna a progredire con l'esperienza sull'amore in questa vita e ci aspetta a braccia aperte dopo la nostra morte terrena. Dio ascolta le nostre preghiere. Ecco una semplice forma per pregare. Ci rivolgiamo a Dio dicendo, caro padre che sei in cielo, esprimiamo il motivo per cui preghiamo dicendo, ti prego per... esprimiamo la gratitudine su ciò che sentiamo dicendo, ti ringrazio per... diciamo ciò di cui vogliamo esprimere la nostra gratitudine, per esempio, per avermi dato un corpo sano, una capacità scolastica buona. Possiamo ringraziare veramente su tante cose che ci rendono felici o che ci fanno crescere. Chiediamo ciò che vogliamo sapere e che ancora non riusciamo a capire, per esempio la verità o sarà la soluzione su un problema della nostra vita. Possiamo chiedere semplicemente conforto, conforto dalle nostre ansie, dalle nostre ansie e paure, dolori o frustrazioni. Possiamo chiedere più coraggio, più energia, più energia per affrontare la vita con più risolutezza. Possiamo chiedere la forza necessaria per cambiare la nostra vita verso la felicità secondo Dio. Possiamo fare una preghiera corta o lunga, non esiste una regola, basta che venga fatta con il cuore. Alla fine della preghiera diciamo nel nome di Gesù Cristo, Amen, perché Lui è il nostro mediatore ed attraverso Lui comunichiamo con il Padre. Non si pregano né santi né statue, solo Dio. Vi assicuro che questa preghiera è uno strumento potente per allontanare il male dalla nostra vita e di invitare la pace ad essere più presente. Grazie di avermi ascoltato e alla prossima. Grazie. 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 Grazie.